Benvenuti da Claudio Brechino a questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia di stampa Italpress che dal 2020, ormai sono due anni, vi racconta l'attualità attraverso un'intervista di 20-30 minuti molto veloce all'americana, come si dice, all'anglosassone, a uno dei protagonisti dell'attualità medesima nei vari campi della nostra società. Oggi tocca alla politica, tocca a un politico di lungo corso, come si dice, che adesso divesta un ruolo molto importante, ne ha rivestiti tanti altri importanti nella sua carriera, è Renato Schifani, grazie di aver accettato il nostro contatto. Grazie a voi e dell'invito. Attualmente governatore, presidente, come vuoi che la chiamo, della regione. La parola governatore mi fa impressione, preferisco presidente, più democratico. Giustamente, presidente della regione Sicilia, è già stato qui a primo piano, quindi conosce il nostro format, che si chiama così, sia per l'inquadratura che per i tavoli. Vedi, qui siamo nel nostro studio di Milano inaugurato da poco, con un tavolo un po' più elegante, meno minaccioso di quello romano, quindi adesso cambieremo anche quello romano. Senta, presidente, cominciamo subito, visto che il tempo è poco, quindi andiamo alle notizie, alle domande. da una battaglia che lei sta conducendo, perché ne stanno parlando tutte le agenzie, sui voli Roma-Valermo, vi faccio una piccola introduzione sperando di non sbagliare, insomma praticamente... Roma-Valermo, Roma-Catania, quindi insomma... Insomma, diciamo quella Sicilia, quindi diciamo, tutti quelli che adesso arrivano alle vacanze di Natale, vogliono ritornare nella loro terra o venirci per qualche motivo, si trovano con biglietti molto alti, perché le due compagnie che fanno i voli, lei dice, Giuseppe, ha fatto cartello, non è una cosa minacciosa, sono accordi che si fanno, si fanno cose quindi che sono Ita, che è una compagnia pubblica e in questo caso Ryanair, e lei insomma ha protestato giustamente, i biglietti non possono avere questo prezzo giustamente per il pubblico. Com'è la situazione e qual è l'uscita? La situazione che abbiamo deliberato due giorni fa in Giunta, di proporre ricorso all'antitrust denunziando questo cartello, il cartello per i nostri telespettatori, non addetti ai lavori, significa un accordo informale, ufficioso, senza nemmeno parlarsi tra di loro, quando vi esiste un regime di monopolio tra le tue ditte, non altre, non c'è la concorrenza, le ditte facilmente possono mettersi d'accordo al rialzo, i prezzi al rialzo, non al ribasso, nel decidere di non farsi concorrenza e quindi gestire questo monopolio, è un monopolio sostanzialmente sotterraneo e concordato, ed è un'operazione illegittima, quindi abbiamo denunziato all'antitrust questa anomalia che pagano i siciliani, perché è la prima volta da quando faccio politico che si assista a prezzi 600-700 euro per tornare da Roma a Palermo, mentre a New York si arriva con molto meno. Sono fortemente impegnato, con me credo di avere tutto il popolo siciliano, andrò avanti, non mi fermerò naturalmente, perché è un fatto inconcepibile. Prima di parlare di un'idea che potrebbe esserci, che riguarda gli aeroporti siciliani, le faccio una domanda a parte, quali sono le risposte avute dall'istituzione? Perché in tutto il ragionamento per lei giustamente ha semplificato in maniera molto chiara, la cosa che ci risulta un po' anomale è che una delle due compagnie sia, come dice, di bandiera insomma, e quindi deve avere un altro tipo, secondo me, anche di etica nel prezzo rispetto ai cittadini italiani, no? Siamo d'accordo su questo, quindi penso che il governo deve dare una risposta. Una società capitale pubblico non può fare cartello, non deve fare cartello, ma infatti la mia protesta è finalizzata principalmente sulla società capitale pubblico che si sta comportando, secondo me, in maniera del tutto discutibile, perché il capitale pubblico è dei cittadini. È vero che ITA sostiene che non può adottare politica in perdita, ma nello stesso tempo non meno può penalizzare un mezzogiorno che paga già il prezzo della sua insularità e aggiungo, lo sta facendo in un momento in cui l'articolo 119 della Costituzione è stato modificato ed è previsto che occorre evitare le sperequazioni del nostro Paese facendo riferimento in particolar modo al concetto della insularità, quindi in Costituzione introduciamo un principio, attenzione all'insularità, inserire delle perequazioni, dei ristori sotto il profilo generalizzato, anche economico, dall'altro lato invece c'è chi profitta di questo fatto per chiedere prezzi spropositati. Ma quale sarà la soluzione? Cosa si aspetta? Io andrò avanti perché stiamo presentando il ricorso all'antitrust, attenderemo questo, manderemo avanti la nostra battaglia politica anche segnalando al governo non soltanto la situazione del cartello ma anche la inaccettabilità del fatto che una compagnia di bandiera adotti questi prezzi che sono offensivi per la dignità umana. E questa è un'agenzia di stampa, noi la rilanciamo, questa agenzia la rilanciamo anche questa sua denuncia e ci aspettiamo un po' tutti che ci sia una reazione. Pensi un po' che notizia di ieri che Ita si è degnata di comunicare che per i tre giorni di Natale aumenterà i voli e poi ritornano quelli che erano prima. Non lo voglio prendere in considerazione perché voglio evitare polemiche, però dare un pezzetto di pane, un tozzo di pane e poi si ritorna alla situazione attuale mi sembra, non voglio fare con me. Vediamo anche dopo questo lancio, dopo questa intervista che cosa succede, siamo speranzosi. Lei però ha anche un'idea che non risolve questo problema ma che a lungo termine può essere un'idea di un cambio di atteggiamento che è quello di privatizzare i principali aeroporti della Sicilia. La Sicilia è l'unica regione che non ha privatizzato gli aeroporti, l'unica. Privatizzare significa inserire nei livelli, nelle tecniche gestionali dell'aeroporto delle governance competitive e di manager che tendono ad aumentare il numero di vettori che atterrano, aumentare le cosiddette toccate che fanno lavorare un aeroporto. Manca, manca questa gestione manageriale che invece fa decollare tutti gli altri aeroporti. Io mi chiedo come mai a Palermo ci siano soltanto due vettori che comunicano Roma con la Sicilia. Come mai? È evidente che comunque sia, io sono dell'idea che il processo di privatizzazione delle due scale aeroportuali va avviato, va avviato perché ne agevoleranno i cittadini, ne agevoleranno anche le casse di enti pubblici che sono proprietari dell'aeroporto. Gli enti pubblici, proprietari dell'aeroporto, devono svolgere funzioni pubbliche, non devono svolgere attività privatistiche perché le svolgono purtroppo male. Quindi occorre procedere, tra l'altro le devo dire che i processi di privatizzazione ormai sono gestiti da regole talmente ferre di grande trasparenza, la nomine del vice, le grandi che controllano, la gara europea, quindi pericoli di infiltrazioni, voglio mettere le mani avanti. Ormai ne vedo poche, saremo rigorosissimi naturalmente, però è un sistema collaudato sotto il profilo procedurale. Non deve spaventare il concetto. No, al contrario, Roma, Napoli, Venezia, Milano, sono tutte privatizzate, perché noi no? Visto, De Modelli, anche questa è un'altra cosa che lanciamo e che vediamo che effetto che fa. Senti, a proposito di viaggi, strutture e infrastrutture, lei eredita subito come Presidente della Regione un tema che con il nuovo governo, ritornato di grande attualità, anche col Ministro Salvini, il Ponte sullo Stretto. È una specie di, in termini narrativi, quasi di orissea, se ne parla ormai da tanti anni. Stavolta è la volta buona ed è poi, insomma, in fondo, lei è una cosa molto pratico, molto previso, ha una grande esperienza politica ed è utile. Ero capogruppo con il Presidente Berlusconi, 2001-2006, quando lanciò il governo Berlusconi l'idea del Ponte, quindi è un'idea che ho visto nascere con il leader, al conto il quale sono cresciuto politicamente. È andata avanti, poi è stata interrotta da altri governi che non la condividevano. L'ultima è stata la clausola del Corrado Passera, il Ministero del Governo Monti, che ha cancellato con una norma un appalto già avviato, perché sia ben chiaro che gli spettatori sappiano che il progetto è pronto, è esecutivo, cantirabile, una norma rescisso questo contratto. Io devo ringraziare pubblicamente il Ministro Salvini che si sta spendendo in maniera senza precedenti, esserò al suo fianco senza se, senza ma, in questa attività e anche nel suo ruolo di Ministero delle Infrastrutture sta svolgendo egregiamente. Devo ringraziarlo perché si sta impegnando molto, già abbiamo fatto un paio di incontri, ci ha spiegato il percorso che abbiamo condiviso, me e il Presidente Occhiuto della Calabria, sta andando avanti infatti sul percorso, cioè reintroduzione della società Ponte sullo Stretto che era stata messa in liquidazione, annullamento della, scusi la ripetizione, togliere la norma che aveva annullato il contratto, rivedendo i prezzi naturalmente, rivisitando il progetto che già comunque va bene, rivedendo i costi e prevedendo un attimo una procedura attraverso la quale si individuano fondi tendenzialmente europei. Devo dire, gli devo dire un grazie pubblico e lui sa che potrà contare sul sossegno del mio governo. Ma riusciremo in quanto tempo a vedere, come si dice, la prima parte materiale di quest'opera? Beh, non dipende da me questa risposta, comunque non meno di un anno, un anno e mezzo, perché bisogna mettere a posto tante carte che prima erano sparigliate, però già il mio sogno sarebbe quello di, entro un paio di anni, riuscire a mettere assieme al ministro Salvini e Roberto Occhiuto la prima pietra. Già è un'opera che... Allora, a proposito di soldi pubblici e di opere, di strutture, di infrastrutture che riguardano anche un territorio, in questo caso a mettere insieme, a volte mette insieme più territori, addirittura mette insieme l'isola con il continente, ma i soldi del PNR come vanno? Visto che si discute molto a livello nazionale, non dico che c'è una polemica che riguarda la sua regione, però nel quadro generale ci viviamo alla fine dell'anno e io le dico, come giornalista, pur leggendo tanti numeri non ho ancora capito bene se tutti i progetti sono stati messi a terra nel complesso oppure no, o se siamo un po' indietro, non sto discutendo ora sulla rivalutazione, perché dopo lì andiamo su un percorso giusto di discussione, parliamo ora dei soldi che ci vengono dati, dei progetti fatti per usarli per il territorio. E' una grandissima occasione che non possiamo perdere, né come paese né come regione siciliana, è evidente che scontiamo un prezzo sia a livello nazionale che regionale, un prezzo del parallelismo delle date, abbiamo avuto due parallele interruzioni della legislatura, quella nazionale e quella regionale, è evidente che questo determina ovviamente un rallentamento delle procedure perché è nella logica delle cose, per quanto mi riguarda io ho riunito settimana or sono tutti i capi di partimento con il segretario generale e i miei assessori per fare il punto, capire bene a che punto si è nell'attuazione dei progetti PNRR. E' un'occasione che non possiamo perdere, ma sono abbastanza fiducioso perché, vigilo, pensi che dal momento della mia elezione sono stato un mese senza poter nominare gli assessori per una legge improvvida che a Niorson è stata votata all'Assemblea regionale. Improvvida perché la considero sbagliata, però lì ho preso atto e l'ho dovuta rispettare. Senta, riguardo al tema sempre dell'isola, dell'insularità, insomma si discute molto, ancora se non sono chiari i testi, non sono stati ancora definiti, però insomma come sai in Italia prima ci sono le polemiche, poi c'è la conoscenza dei testi, di questa autonomia differenziata che messo insieme così mi fa pensare un termine un po' della politica della Prima Repubblica, autonomia differenziata. che vuol dire rispetto al meridione, perché altri governatori, altri presidenti, governatori che non gli piace molto, sono già sul piede di battaglia, ma rispetto alla Sicilia, insomma parliamo del suo territorio, non allargiamo troppo. Io sono dell'idea, vede che non esista sull'autonomia differenziata una movimentazione, un'aggregazione di governatori centrodestra e governatori centrosinistra, è un tema trasversale, ma è naturale che sia così, perché il governo del territorio naturalmente è uno degli imperativi categorici che non esiste un cartello dei governatori centrodestra e centrosinistra. Detto questo è un impegno non indifferente, un articolo della Costituzione prevede che alcune regioni possono prevedere con legge dello Stato approvata a maggioranza l'attivazione di competenze maggiori, competenze statali, previo trasferimento di queste competenze alle regioni. Questo si accompagna attualmente a un trasferimento alle risorse pure. Allora dobbiamo verificare se questa modalità sposta l'equilibrio finanziario del Paese. Dico anche che un recente rapporto della Banca d'Italia di oggi ha accertato come la sperequazione tra nord e sud si sia aumentata. Allora se noi pensiamo che ogni governo la spesa pubblica si indirizza per 18 mila euro ad abitanti al nord ed 11 mila al sud, se noi pensiamo che il tasso di mortalità dei bambini sotto l'anno è maggiore al sud rispetto che al nord, allora ci chiediamo effettivamente come mai questi dati. Vi sono delle condizioni di vita differenti, non dipendenti dall'attuale Presidente della regione. Vi è una infrastrutturazione al nord ben diversa rispetto a quella del sud naturalmente e vi è un tema, quello per esempio vogliamo parlare di autonomia differenziata. Già le regioni hanno un'autonomia differenziata sulla sanità. Lei sa bene quanto me come esista una differenza tra la sanità nel mezzogiorno e quella del nord. Quasi tutti i giorni con il Covid. Queste autonomia hanno determinato effettivamente le differenze, ma non per colpa degli operatori del mezzogiorno, ma per colpa anche dei trasferimenti pubblici e dei sistemi organizzativi. Allora io incontrerò il Ministro Calderoli per discutere con calma di questo argomento. E cosa gli chiederà? Però chiedo innanzitutto tempi certi perché si individuano i loop. I loop cosa sono? I livelli unitari delle prestazioni, cioè anche la Banca d'Italia afferma che occorre fissare una omogeneità di servizi pubblici essenziali in tutto il Paese. Se non c'è questo, la Bolsa Calderoli prevede entro un anno, se entro un anno non si realizzano si attua la spesa storica, cioè chi ha avuto di più continua ad avere di più, chi ha avuto di meno continua ad avere di meno. È evidente che su questo non possiamo essere accorti, dobbiamo trattare con il Governo, pronti al confronto. In più aggiungo un altro aspetto. La Sicilia gode all'articolo 37-37 dello Statuto, norma di rango costituzionale, l'autonomia finanziaria. Lo Statuto nostro prevede che tutte le imposte versate in Sicilia, tutte, debbano restare in Sicilia. Questo articolo nel tempo è stato disapplicato perché i governi precedenti all'elezione diretta del Governatore, quindi eredi del Governo nazionale, quindi subordinati, hanno consentito che molte imposte realizzate dai Governi nazionali venissero prelevati ugualmente anche se versate in Sicilia, quindi è stato un po' fatto un latrocino sostanzialmente, in termini positivi, buoni, non positivi, in termini corretti dell'espressione. Però ci troviamo in questa autonomia finanziata che è scritta nello Statuto che vige come legge costituzionale ma che non è applicata e io ritengo che sia la volta buona, quando si aprirà un tavolo traverso il Ministro Calderoli, discutere con serenità del ripristino di questo principio costituzionale. Un che è un grande tema questo di discussione. Ma l'è toccato uno dei temi sottostanti al tema generale che è quello della sanità perché è un tema dove, secondo me, c'è una maggiore disubaglianza nel discorso dei finanziamenti e anche il tema dove si risente della qualità della vita del territorio perché poi alla fine dare il diritto alla salute ai propri cittadini impedendogli di fare la cosiddetta migrazione di 600-700 km per trovare un'ospedale a Napoli. La nostra Costituzione attuale prevede che devono essere garantiti in tutto il Paese i LEA. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale. Ebbene, questo principio ancora oggi non viene attuato perché i livelli essenziali di assistenza non sono stati individuati e non sono omogenei in tutto il Paese. Questo è già scritto in Costituzione. pensi se tendiamo a dare più o meno autonomia. Io non sono contrario a previsticamente perché poi l'autonomia ti spinge alla maggiore efficienza, a far funzionare meglio il sistema. Quindi è uno stimolo. Io lo vedo anche come stimolo, però bisogna anche dirsi l'idea. Senza però aumentare quelle disuguaglianze, lo diceva lei, le cose che sono probabilmente già presenti. Guardi, Banca d'Italia l'ha detto ieri proprio che in questi dieci anni si è incrementato il Diveria Nord-Sud. E con il Covid ancora di più. Senta, penultima domanda. Un tema importante nella politica di oggi, più di quando è stato sempre importante, ma lo è diventato di più anche culturalmente rispetto agli anni in cui c'era da fare politica, l'ambiente. Oggi quando l'ambiente è diventato un tema quasi ossessivo delle nostre discussioni politiche. Però, insomma, dobbiamo pensare al bene del nostro abitato. E quindi, nel tema dei rifiuti bisogna pensare a come smaltirli, quindi costruire o no i termovalorizzatori. Qual è la sua posizione? Favorevole alla costruzione? Ma no, sul territorio siciliano, perché sai come dicono gli italiani, va tutto bene e basta non lo fare nel giardino. Ma guardi, io già in campagna elettorale mi sono espresso per l'insediamento di due termovalorizzatori in Sicilia, uno in Sicilia orientale e in Sicilia occidentale, perché senza questa soluzione non ne vedo altre, non ce ne sono altre. Mi confronto a volte con delle opposizioni di carattere ideologico e non realistico che sono contrari. Ma io andrò avanti correttamente, seguendo le procedure corrette, per la realizzazione di queste due grandi realtà che soltanto loro sono in grado di riposolvere. Quello che mi preoccupa, sa qual è, il tempo che decorre da oggi fino a quando non realizzerò i termovalorizzatori, noi continueremo a vivere una questione di emergenza e di discariche di privati, di discariche pubbliche sature. Io ho un'emergenza, non dico al giorno, il mio assessore, non lo invido, è molto bravo e lo voglio elogiare anche qui, perché effettivamente è una delega che è una problematica non indifferente. Noi chiederemo al governo romano, l'ho detto in campagna elettorale, la norma Gualtieri, perché se il PD l'ha chiesta per il sindaco Gualtieri, è una norma che velocizza le procedure per i termovalorizzatori, non vedo per quale motivo non debba essere data per la Sicilia. Ma io sono fiducioso naturalmente su questo. È un problema serio, un problema emergenziale di carattere. Guardi, quando non ero dotato degli assessori della Giunta, non avevo l'assessore all'ambiente dei rifiuti, dovevo gestire una buona parte della mia giornata a queste tematiche delle discariche che si dudevano ed impedivano ai comuni di poter conferire. Le credo, non le è da invidiare. Ultima domanda, lei è Presidente da poco, trova una situazione che non è responsabilità sua, però l'avrà valutata, ha visto quali sono le luci e le ombre come tutte le situazioni con un'eredita. Quali sono le riforme più urgenti da fare nel suo ruolo e per la sua terra nel 2023? Semplificare, semplificare, semplificare. La Sicilia in questi anni è rimasta al palo. Io in campagna elettorale ho incontrato tutti i corpi intermedi, corpi intermedi con Fartigianato, con Findustria, con Sergenti, con Tiretti, diciamo tutto il mondo produttivo e non del nostro sistema. Ho registrato un appello accurato, sbloccate i sistemi decisionali. Vi è un organismo che ha paralizzato le procedure finalizzate ad esaminare con velocità e dire sì o no a chi vuole insediare un impianto fotovoltaico, un impianto industriale. Il no, il no e il no. E tanti fondi di investimento mi hanno contattato, tanti gruppi del nord e dicono Presidente se lei ci dà dei tempi entro cui la regione dice sì o no. Non è che loro chiedono che sia a tutti i costi. Noi allora guardiamo alla Sicilia. Proprio oggi, proprio oggi la mia giunta ha deciso di attivare un processo legislativo finalizzato da qui a qualche settimana a rivedere un organismo, le procedure di funzionamento di questo organismo che si chiama Comitato Tecnico Scientifico, rivederne i componenti ma rivederne le regole e rivedere anche la funzione del Presidente perché occorre adeguarsi anche alle richieste che vengono da tutte le parti del mondo per l'investimento alla Sicilia. E poi voglio aggiungere la Sicilia ha un clima che ci invidiano tutti, quindi è assurdo frenare ideologicamente sul fotovoltaico perché possiamo produrre energia in un momento in cui il problema energetico non è secondo a nessun altro problema. Qui siamo a Milano, vedi i studi ne ho guardato da poco, qui insomma il clima è quello che è, però insomma la città comunque... Qui a Milano frutta energia, penso 20% rispetto a quello che potrebbe fruttare in Sicilia. Abbiamo chiuso una battuta, insomma abbiamo fatto... No vabbè, è una questione climatica, ma giustamente, abbiamo fatto 20 minuti intensi e era pure giusto un attimino, perché insomma questa è un one to one, sono contenuti seri, qualche cosa dobbiamo dire, però chiudo invece di nuovo con serietà, ricordando che la semplificazione non vale solo per le politiche territoriali importanti, come sono quelle delle regioni, vale anche per l'Italia tutta, è una delle riforme che ci chiede l'Europa insieme ai finanziamenti del recovery, quindi non bisogna dimenticarla questa cosa, è una di quelle parole che la gente non capisce, è una semplificazione, cioè la si capisce istintivamente ma non si capisce cosa vuol dire in termini poi di nuove decisioni, invece diventa secondo me essenziale per gli anni a venire. Pensi che noi siamo erogatori attivi con l'Europa rispetto al... noi diamo più all'Europa di quello che riceviamo, perché? Perché non riusciamo a intercettare parte dei fondi, e noi dico non solo Sicilia, ma Italia per mancanza in Sicilia e per mancanza di progetti. voglio aggiungere una considerazione a proposito di riforma, che noi reintrodurremo le province, e lo vuole tra l'altro il governo, il ministro Calderoli, lo vuole il territorio, e a breve presenteremo un disegno di legge che ci riporta all'elezione diretta dei presidenti delle province, non soltanto per una maggiore democrazia, quanto per una maggiore efficienza delle istituzioni sul territorio che con l'abolizione, con la digerteria ne hanno pianto le conseguenze. Senta, ultimissima cosa, insomma siamo vicino a Natale, faccio un buon Natale ai siciliani. Beh, agli italiani tutti, ma i siciliani che sono i suoi cittadini. Innanzitutto i miei cittadini che amo, non ho mai lasciato la mia città anche quando ero seconda carica dello Stato, tutti i fini di settimana stavo nella mia città, poi noi siciliani siamo particolarmente legati alla nostra terra. Al popolo siciliano per il quale mi sto battendo in un ruolo al quale non era prevista la mia candidatura, mi è stata chiesta dal presidente Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e gli altri leader e che ho accettato il 13 di agosto di quest'anno. No, ce l'aveva il curriculum. Poi un augurio a tutti gli italiani e tutti gli italiani di dimenticare, gli italiani hanno dimostrato con il Covid, non soltanto con il sacrificio di tanti medici e persone parasanitari, di essere un grande popolo e questo l'ho voluto modo di constatare quando la seconda carica dello Stato ha girato l'Italia a lungo e a largo, siamo un grande paese, ne siamo orgogliosi. Grazie a Renato Schifani, ci facciamo gli auguri pure noi. Grazie, buon atelier a tutti i vostri telespettatori. Per non fare un fact checking diciamo di quello che ci siamo detti ogni 5-6 mesi e noi piace qui dal press e questa rubrica tornare a vedere lo stato dell'arte delle cose, delle cose dette in politica, nel cosiddetto discorso pubblico, è sempre importante fare non un controllo ma una verifica delle cose così come stanno andando. Grazie per ora, grazie a voi che ci avete ascoltato, questa puntata di Primo Piano termina qui, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.